Il porto di Brema sul mare del nord salpava la nave Admiral Tegedhoff e con lei la spedizione verso il polo nord della regia marina austro-ungarica. L'equipaggio, comandato da ufficiali austriaci, aveva un unico obiettivo, trovare il passaggio a nord-est per il polo. Poco dopo la partenza, la nave si incaglia nel Pac Artico. Inizia così la lunga avventura raccontata nella mostra Dalle Alpi all'Artico, un'avventura a lieto fine che ha portato alla scoperta di un arcipelago di 191 isole che gli esploratori battezzarono Franz Josep Land. Dopo mille peripezie e due bui e gelidi inverni polari, la spedizione fece ritorno a Vienna, dove fu accolta trionfalmente da una folla di 250.000 persone. Promossa dal Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, dal Trento Film Festival, dalla SAT e dal Museo Tridentino di Scienze Naturali, la mostra è un percorso affascinante, sorprendente e trasversale tra storia, scienza e natura. Benvenuti a FormArt, ma chi fu il principale artefice di questa straordinaria spedizione? Ce lo racconta Riccardo De Carli, uno dei curatori della mostra. Il protagonista di questa spedizione fu Julius von Payer, che era un ufficiale dell'esercito austro-ungarico, distanza in Veneto. Prima della spedizione, a partire dal 1864, Payer fece diverse campagne alpinistiche in Adamello-Prisanella e Ortloss-Cevedale. Tra l'altro fu il primo salitore dell'Adamello e il secondo della Prisanella. Nel 1864, di ritorno da una di queste sue salite, incontra a Tione un maggiore dell'esercito austro-ungarico. Questo maggiore gli consegna un barilotto di trotte che Payer avrebbe dovuto portare al generale Kuhn a Trento. Quattro anni dopo, nel 1868, Kuhn diventa ministro della guerra e incarica Payer di fare ufficialmente delle carte topografiche per l'esercito e successivamente Payer, poi entrato in questo giro appunto dell'Istituto Geografico Militare Austriaco, partecipa alle tre spedizioni polari, l'ultima delle quali, nel 1872-74, scoprirà la terra di Francesco Giuseppe. Ecco che Payer, quindi, da anziano, lui poi si trasformerà in pittore e ricorda che deve la sua fortuna alle tre trotte consegnate al generale Kuhn. I ghiacci del Polo, come i ghiacciai delle Alpi, per la loro sensibilità sono considerati dai climatologi il termometro della temperatura media globale. Quanto è cambiata la situazione dai tempi della spedizione di Payer ad oggi? L'abbiamo chiesto a Cristian Casarotto e a Roberto Bombarda. Dagli anni 70 del 1800, quando Payer visitò, anche per la prima volta, il gruppo montoso della Damello Presanella e successivamente le zone artiche, la situazione è decisamente cambiata. Basti pensare che soltanto negli ultimi 30 anni l'estensione della banchisa artica si è ridotta del 30% e per quanto riguarda invece gli acciai della Damello Presanella, dagli anni di Payer ad oggi hanno perso una lunghezza superiore ai due chilometri, quindi situazioni glaciali, alpine e artiche decisamente diverse. Oggi per quanto riguarda l'Artico, la spedizione della Tegetov risulterebbe decisamente diversa. Un passaggio a nord-ovest o a nord-est, che dirò si voglia, decisamente più facile rispetto a quello conosciuto e incontrato dal nostro Julius Payer. Nonché anche la frequentazione dei ghiacciai ad Amello Presanella, ma nel complesso tutta la situazione alpina è decisamente cambiata. Quindi anche la frequentazione dell'ambiente alpino e l'ambiente d'alta quota deve ogni anno cambiare e fare i conti con i cambiamenti climatici che di pari passo portano a un arretramento glaciale in termini di lunghezza e di spessore. Il ritiro dei ghiacciai come conseguenza diretta dei cambiamenti climatici comporta varie conseguenze, alcune di tipo naturale evidentemente, minore disponibilità di acqua non solo nelle Alpi ma anche acqua dolce nell'Artico. Apre anche altri scenari come ad esempio l'apertura di rotte commerciali attraverso il Polo Nord, inimmaginabili all'epoca della spedizione Payer, ma oggi praticabili. Apre anche scenari di turismo, ma anche di utilizzo minerario di regioni artiche che sono, lo sappiamo, ricchissime di giacimenti di idrocarburi. Quindi diciamo che il ritiro dei ghiacciai e i cambiamenti climatici che ne sono all'origine prefigurano scenari inimmaginabili solo qualche decennio fa. Siamo giunti al termine di questa puntata tra storia, avventura, scienza e natura. Io vi saluto e vi lascio con Claudio Ambrosi che ci consiglia un romanzo davvero speciale. Arrivederci. Il libro che vi presentiamo è Gli orrori dei ghiacci e delle tenebre di Christophe Rasmeier che racconta la storia della spedizione di Julius Payer alle terre di Francesco Giuseppe e ne racconta la storia in maniera romanzata. Quello che a noi importa è la parte emotiva che emerge rispetto a questa spedizione in cui ci caliamo all'interno dei personaggi che l'hanno vissuta e ne viviamo assieme le emozioni e anche il sentimento di delusione e di particolare comunque fascino che queste terre creano su di noi adesso come allora. Grazie.